Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI, dove per lavori tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna si segnalano rallentamenti sia in direzione Firenze che in direzione Livorno. Spostandoci in A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre in direzione Bologna, corsie di sinistra chiuse tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. A Firenze dal 30 gennaio al via il primo cantiere di Publiacqua, in viale Lavagnini tra viale Strozi e via Leone Decimo. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie per la visione!